Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati sul canale. Oggi parliamo di Dylan Dogg e più nello specifico, come potete vedere, del Dylan Dogg Old Boy numero 5, questa testata bimestrale che esce appunto una volta ogni due mesi e che in qualche modo riguarda il vecchio Dylan, ovvero quello precedente ai cosiddetti sconvolgimenti che sono stati messi in opera dal 400 in poi. Quindi modernizzandone, attualizzandone insomma la testata, il personaggio, queste storie sono incentrate invece sul Dylan degli esordi, quindi personaggi come Rania e Carpenter sono assenti, Block qui non è ancora il padre adottivo di Dylan, per cui una testata, potremmo dire per i nostalgici, ma più in generale per chi è affezionato, rimane insomma fortemente attaccato al Dylan degli esordi. Il formato, come potete vedere, è diverso rispetto alla testata classica di Dylan Dogg, qui abbiamo a che fare con un albo di 194 pagine, 196 contando anche la terza e la quarta di copertina, un albo che costa 6,50 euro, un prezzo che potrebbe sembrare importante ma che in realtà in rapporto è persino più conveniente rispetto alla testata regolare perché offre due storie complete da 94 tavole per cui al costo di 6,50 euro è un po' come acquistare due albi regolari da 4 euro l'uno, per cui c'è 1,50 euro di risparmio che tutto sommato rende conveniente questa testata. Due sono le storie protagoniste di questo albo, come potete vedere qui nella scritta in copertina, abbiamo a che fare con Il Giornale dei Misteri e Casanova. Questo albo è uscito qualche settimana fa in occasione di San Valentino e quindi le storie in qualche modo riguardano il tema dei sentimenti, il tema dell'amore fondamentalmente. Nella prima storia, intitolata Il Giornale dei Misteri, abbiamo un inizio che ricorda un po' l'invasione degli ultracorpi, possiamo dire, per una storia che poi con il passare delle tavole va a parare anche su universi paralleli, mostri e quant'altro e che ruota attorno ad una strana redazione giornalistica che indaga sulla presunta morte, insomma sulla presunta scomparsa dell'indagatore dell'incubo, quindi di Dilan Dog. Nella seconda storia, invece, intitolata Casanova, abbiamo a che fare con un serial killer, una moderna versione Dilan Drew, potremmo dire che quindi seduce e uccide delle donne, anche diverse fra loro. Dilan dovrà indagare su questo serial killer attraverso una delle sue vittime che ha la particolarità, oppure o perlomeno, insomma, sembra avere la particolarità di non morire, di essere in qualche forma immortale. Questo è un po' l'incipit di queste due storie che io, un po' per non complicarmi troppo le cose e un po' per evitare di fare spoiler, non vi racconto troppo nel dettaglio. Due storie molto carine e di puro intrattenimento, possiamo dire, a differenza di quelle presentate sulla testata del Colorfest. Due storie, però, sicuramente sceneggiate bene, assolutamente leggibili e autoconclusive, quindi non hanno collegamenti o comunque se li hanno non li hanno invasivi con storie o vicende passate dell'indagatore dell'incubo. Vi faccio vedere la copertina, la copertina ad opera dei fratelli Cestaro che si occupano di tutte le copertine di questa testata. Una copertina molto interessante, molto bella, in cui, a parer mio, questa donna, questa versione creepy di Madonna, almeno da quanto ho letto dovrebbe essere ispirata a lei, ruba un po' la scena al nostro indagatore. Vedete come il volto di questa donna è tratteggiato, è dettagliato meglio rispetto a quello di Dylan. Una copertina, comunque, molto interessante, che sicuramente ci porta sulle tematiche raccontate, perlomeno sulle ambientazioni raccontate nelle due storie. Aprendo troviamo i crediti delle due vicende. È molto interessante queste introduzioni, che sono presenti all'inizio di tutte e due le storie, svolte un po' come intervista. Intervista fra il curatore della testata, Franco Busatta, e gli autori, sceneggiatori e disegnatori, delle due storie. Molto interessante, ci vengono un po' spiegate le fonti ispiratrici di questi due racconti. Venendo, appunto, ai crediti, abbiamo, per quanto riguarda la prima storia, il Giornale dei Misteri, il soggetto e la sceneggiatura curato da Giuseppe De Nardo, mentre invece Luigi Siniscalchi e Sergio Algozzino ha i disegni. Disegni, secondo me, molto interessanti. Io vi faccio vedere qualche tavola di Siniscalchi e Algozzino. Disegni, devo dire, molto espressivi, uno stile estremamente fumettistico, quindi c'è anche una sintesi piuttosto interessante. disegni che mi sono piaciuti soprattutto per quanto riguarda i volti dei protagonisti e le varie espressioni. Come potete vedere, insomma, sono veramente ben ritratte e il risultato complessivo è, secondo me, molto interessante. Nella seconda storia, invece, abbiamo due nomi, se vogliamo, più classici, quindi abbiamo Luigi Mignacco, autore del soggetto e della sceneggiatura, mentre invece Maurizio di Vincenzo, che è all'opera anche sulla testata di Samuel Stern, ha i disegni, disegni, direi, più classici. A parer mio, un po' meno interessanti rispetto a quelli di Siniscalchi e Algozzino, però comunque assolutamente comprensibili, chiari, molto sintetici, mi viene quasi da dire, non particolarmente virtuosi, uno stile molto pulito, molto leggibile, molto chiaro, appunto, molto comprensibile. Questi sono i disegni, insomma, nel caso non aveste acquistato l'albo e voleste farvi un po' un'idea su quello che vi può aspettare. Un albo che io mi sento di promuovere, molto interessante, carino, godibile, anche se non ci troviamo, secondo me, di fronte al capolavoro del Colorfest. Fra i due vi consiglierei di più il Colorfest, però sappiate che anche questa può essere una lettura molto rilassante, molto svagata, insomma, e divertente. Se avete letto questo albo, scrivetelo nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io sono felice di leggere e rispondere ai vostri commenti, a quello che scriverete. Per il resto vi auguro un buon proseguimento di serata e vi do l'appuntamento a voi piacendo al prossimo video. Ciao!